Dal 1 gennaio è obbligatorio usare sacchetti biodegradabili e compostabili per l'acquisto dei prodotti alimentari sfusi. A due giorni dall'entrata in vigore della legge, il prezzo medio rilevato dall'ADOC è pari a 3 centesimi di euro a sacchetto. Considerando un acquisto di circa 200 sacchetti l'anno per singolo consumatore, la maggiore spesa a carico del singolo cittadino è pari in media a 6 euro. Il 65% dei consumatori si è dichiarato favorevole ai nuovi sacchetti in ragione della loro sostenibilità, anche se questi vanno ad incidere sulle loro tasche. Ma le polemiche in merito non si placano, anche i consumatori più sostenibili sembrano infatti avere da ridire. Primo problema fra tutti, la mancanza di alternative. L'Associazione Difesa Orientamento Consumatori mette sul tavolo due proposte, fissare ad un centesimo il prezzo del sacchetto pareggiando le spese di produzione in modo da non appesantire eccessivamente i costi a carico del consumatore e l'invito al Ministero della Salute e il Ministero dell'Ambiente ad autorizzare l'uso di sport a rete completamente riutilizzabili per l'acquisto dell'ortofrutta alla stregua di quanto avviene già in altri paesi europei. Ad intervenire sulla questione anche Fare Verde, associazione di protezione ambientale di Messina, Isole Olie e Ionica, che sottolinea come nel virtuosismo dell'azione si nasconde in realtà un meccanismo diabolico. Non solo i sacchetti sono per più di metà ancora composti di plastica, vanificando quindi la bontà del proposito, si legge in nota, ma ai supermercati è vietato regalarli ai clienti e non essendoci una regolamentazione del prezzo è facile aprirsi a speculazioni. Inoltre, continua la nota rifacendosi ad uno dei problemi sottolineati anche da ADOC, non essendo possibile per motivi genici recare da casa a borso contenitori di diverso tipo che finiscano a contatto diretto con gli alimenti e con le bilance e non avendo altre alternative che usare quelli forniti al supermercato, il disincentivo del pagamento obbligatorio per legge non può che scoraggiare il consumo, ricadendo così nello stereotipo che fare del bene all'ambiente danneggia l'economia.